Ok, adesso vado in box, con la mia grande Red Bull X1 in posti di litri, eccoci qua, questa è la mia Red Bull, 1500 caballi, guardate, veloci ragazzi, porta, 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 55 giri Daytona, devo fare ancora un totale di 200 giri, è un po' lunga, sono primo e ho doppiato gli altri di 6 giri, è stupendo, devo fare un bel po' di benzina perché i giugni sono un po' lunga. Ok, alla prossima. Grazie.